che la trascendeva, come medita Egle a cura di Vubbi. Egle allora incontrava superbamente ciò che la trascendeva, che non era riducibile a se stessa. Quando raggiungeva questo livello di meditazione non poteva dire con che cosa lei creava un ponte, perché il collegamento avveniva in varie maniere. Il ponte poteva essere con il suo sé superiore o con la dimensione psichica di qualcuno cui aveva pensato oppure con qualcosa che incontrava nel suo passato. Il ponte diventava un'apertura a ciò che lei chiamava l'infinito innumerevole. Ma che cosa faceva da tramite tra lei e l'infinito innumerevole? L'abbattimento del suo io. Se Egle metteva l'io a tacere, si trasmutava, scalava se stessa e diveniva certa che la sua meditazione, oltre alla sua vita, poteva migliorare quella degli altri grazie alla percezione onnicomprensiva del reale.